Nella seconda esercitazione andremo ad eseguire uno slalom laterale ed il nostro istruttore si dispone frontalmente rendendoci agevole un passaggio con l'interno piede destro e sinistro all'uscita di ogni tratto del circuito, creato nel mio caso da palloni. Ricordiamo di eseguire uno skip nel momento del cambio piede. Proseguiamo l'esercitazione con la stessa sequenza, questa volta il gesto tecnico sarà eseguito alternando il piede destro e il piede sinistro con il piatto al volo. Terza parte dell'esercitazione l'andremo ad eseguire alternando il collo del piede destro ed il collo del piede sinistro. Il prossimo gesto tecnico sarà eseguito con un passaggio in controbalzo con il piatto destro ed il piatto sinistro. Ultimo gesto tecnico da eseguire è in controbalzo con il collo del piede destro ed il collo del piede sinistro.